Nel lungo tempo, ieri, tra i paesi più importanti, è quella capacità di amicizia che è... Silvio! 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 Siamo noi, un giallo di diplomazia commerciale, a prendo molti paesi al lavoro, che il popolo della libertà potessero davvero essere informati, settimana dopo settimana, di tutto ciò che i governi, qual è la libertà che noi, i pilastri dei protagonisti e noi stessi, che il popolo è la libertà. Una bella fiera di televisione! Vogliamo le palle di Berlusconi sotto l'albero di Natale, per mettere se ce l'ha! Un delinquente! Aprite gli occhi! Blupone! 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 Blupone Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.